C***o la Capsete Nuo! Era lungo, eh? C***o, mi sembrava che avevo finito e ho fatto quindici giri. C***o! Capitain! Fabio! Tanti auguri, eh? Grazie, bravo. Grazie. La corsa da Intelligent. C***o la C***o, era lungo, eh? C***o, mi sembrava che avevo finito e ho fatto quindici giri. C***o la C***o, mi sembrava che avevo finito. C***o, mi sembrava che avevo finito. C***o, non ho mai guardato. Non ho mai guardato, non ho guardato. Non ho guardato, non ho guardato. Non ho guardato, non ho guardato. Non ho guardato, non ho guardato. C***o, mi sembrava che avevo finito. C***o, non ho guardato. C***o, non ho guardato. 21.7. La c***o, è stata un po' di giallo! Non è facile. C***o, che c***o, non ho guardato? C***o, non ho guardato. Ma prego? C***o, ma prego? C***o, non ho guardato. C***o, non ho guardato. C***o, non ho guardato. Prima. Sì. Sì quando ti sento? Quando tu sento? La fine. La fine, la fine. Ma, oggi ancora meno. Ma è rasta in la scuola. Con jo hanno ancora una cosa più inizia, con ali per unaonda. Sì, ma... Grazie a tutti! Ciao Maida! Oh fantastico! Mi sembra che posso andare a fare un marathone. Ma cosa cosa su questo spazio che non mi senti molto bene? Oh! Ma la mia face! Ma la mia face! I losti 3.5 kg. No, no, no No, 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 no No, 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 no